Si chiama fuligine. È residuo della legna che si deposita nelle canne fumarie. Coraggio, amici cari. Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Perché questi grossi colibri non ci lasciano passare? Perciò se oggi una signora ha comprato una radio... Significa che la rapinatrice di banca è una signora che... Che vuole ascoltare la musica mentre rapina la banca. Ho avuto soltanto una cliente oggi. Una signora che ha comprato una radio. Perché non ci abbiamo...